Procedono, abbiamo ragione noi, hanno ragione noi, il mondo arabo è tutto con la Palestina e sono milioni di persone, che non sarà un motivo, la lauma, sono tutti con i palestinesi e il mondo occidentale, bene o male, perché se no non metti la stella di Davide sul Parlamento da politico, il 90% dei parlamentari che rappresentano noi, non ci rappresentano, però l'opinione pubblica, un politico la sa leggere, insomma, quelle immagini le abbiamo veste tutte, noi da occidentali ci medesimiamo in quelle persone, anche se magari tieni per i palestinesi, però tu quelle immagini parlano da sé, intanto lui non ha negato i morti, i morti sono veri, attenzione, i morti sono veri, quindi anche lui si è commosso davanti a quelli, ha provato con passione davanti a quelli ragazzi, io parlo sempre di linguaggio comunicativo, non dei fatti, i fatti faccio parlare ai politici, ai politologi, ai 68, ai 40, non esci più, quelli sono lì da 70 anni, il dibattito sull'esistenza dello Stato di Israele è pretestuoso, è maligno, è maligno, vuole negare l'evidenza dei fatti, è come se io ti dico, c'è una casa, vabbè, lui lì non ci deve stare, lì da 70 anni, però lo mandiamo via perché mi sta antipatico, capito, no, non è così, quello è un dibattito, il resto se ne può parlare, però attenzione, non devi rinnegare da dove viene chi sei?